Critiche al Partito Democratico ma anche apprezzamento per un'eventuale candidatura di Giovanni Legnini a candidato presidente per il centro-sinistra di Matteo. Una posizione su due binari? Un binario per un uomo che secondo me ha una candidatura istituzionale di grande prestigio, che è una persona competente, che è in grado di avere le giuste relazioni per far ripartire la nostra regione. Però c'è il problema di quale sarà la coalizione che lo sosterrà e sono tutti leali in questa coalizione per sostenerli. Questi sono i due problemi perché l'errore più grave che può essere fatto è che lui fosse oggetto di un agguato e che lo fanno perdere e poi facciamo fare una brutta figura, secondo me, la persona più prestigiosa che abbiamo. Questo è un partito democratico di cui io non faccio parte più da diverso tempo, da alcuni anni, è un partito democratico pieno di lotte intestine, non io che combatto contro qualcuno altro, come si vuole dire, ma è pieno di lotte intestine, gente che hanno ambizioni personali che pur di colpire altri fanno tutto quello che è possibile fare in maniera anche cattiva. Io penso che non ci siano le condizioni giuste di serenità se loro non mettono in campo un atto di umiltà e di autocritica. Ci sono già le liste civiche pronte per le prossime elezioni, le vostre liste civiche con tante personalità importanti, amministratori ma anche persone della società civile. Ma c'è il rischio che qualcuno paventa che Di Matteo possa correre al fianco del centrodestra alle prossime elezioni? Ma noi se non c'è una coalizione ampia, leale, con una strategia, un programma condiviso, con a capo una figura di prestigio come quella di Giovanni Legnini, noi siamo svingolati da questioni partitiche, perché noi siamo un movimento civico che guarda la gente, vuole fare la politica per la gente e vuole rendere partecipe la gente della politica. Per cui noi saremo svingolati e sceglieremo i programmi e gli accordi possibili che vanno in una direzione di fare quello che noi pensiamo. Ma Di Matteo non ha mai pensato a candidarsi presidente della regione dopo tutto quello che è accaduto negli ultimi mesi? No, per una questione di peso sarei lì, questo andava bene per rendi di altro tipo, in regione ci vuole uno snello come D'Alfonso.